200 persone lungo i 65 chilometri di Gardesana che separano Peschiera da Torbole. Sulle orme del ricordo degli ultimi giorni di aprile del 1945, quando gli americani, sbarcati nell'Alto Garda, portarono alla tanto attesa liberazione. L'ottava edizione della Derby 40 Miles Ranger Challenge, la manifestazione organizzata con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Nago Torbole, ieri ha registrato un record di partecipanti. Paracadutisti della base americana di Vicenza, soldati dell'esercito USA, distanza ad Aviano, rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed arma e del volontariato e numerosi simpatizzanti hanno portato a termine il viaggio a piedi lungo la sponda orientale del Garda in onore del colonnello Derby, fondatore del corpo dei Rangers, ucciso il 30 aprile 1945 e dei 25 soldati americani inghiottiti dal lago di Garda quello stesso giorno, mentre navigavano con l'anfibio Duck. L'amministrazione comunale sta lavorando al possibile recupero del mezzo americano che giace a 276 metri di profondità, in collaborazione con i volontari del Garda ed il Museo della Guerra di Rovereto.